Siamo nello stand di Bonomi Pattini con Alessia Galimberti che ne cura la direzione artistica. Ci racconti qualcosa di questa azienda? Che cosa produce? Che cosa fa? Bonomi Pattini nasce negli anni 70 con la commercializzazione di pannelli in legno. Si sviluppa poi negli anni. È un brand molto importante nel settore dell'arredamento, del design e dell'architettura, ma la novità di quest'anno è il centro ricerche e sviluppo di Bonomi Pattini. Un centro ricerche destinato alla clientela, perché grazie alla prototipazione e alla creazione di questi materiali che vengono fatti, o meglio, dei prodotti che vengono fatti con i materiali di Bonomi Pattini, si può vedere e si può mostrare la potenzialità del pannello che Bonomi commercializza. E tu che cosa hai progettato per questa azienda? Vedo tante novità. Le novità di quest'anno sono questa collezione che ho voluto chiamare le classi creative. È una collezione che presenta, o meglio, si presentano in questa collezione più materiali, o meglio i materiali, come ho detto prima, commercializzati dall'azienda Bonomi. Con questi materiali abbiamo voluto fare dal pezzo unico fino ai prodotti fatti ad incastro. E parlavi anche di un rapporto importante tra design e arte. Sì, quest'anno ho voluto anche inserire all'interno della collezione l'arte, e l'ho fatto con un artista che si chiama Rosalba Mangione. Ho voluto che le mie creazioni, quelle destinate appunto a tutti i mobili ad incastro, in qualche modo potessero riportare dell'arte all'interno. Quindi l'arte e il design si fondono insieme e diventano una cosa unica. Ma un tuo progetto come nasce? Dall'idea proprio alla creazione, all'ideazione? Io credo che sia importante forse sottolineare questo. Io unisco l'urbanistica al design, quindi per me è molto importante, perché non esiste uno sviluppo economico senza uno sviluppo territoriale. Quindi i miei progetti nascono in questo modo. Riporto l'esempio di queste poltrone o di questa sedia d'ondolo dove sono seduta. Nascono innanzitutto da dei disegni che io faccio su carta. In questo caso è una poltrona d'ondola d'incastro, per cui è nata perché pensavo ad un design democratico, ad un design che possesse entrare nelle case di tutti. Per l'azienda lavori da sola o hai aiuti o hai cercato altre collaborazioni? Quest'anno ho cercato collaborazioni anche con altri miei colleghi, come Robin Rizzini di Bruno Fattorini & Partners, Giancarlo Tintori, Luca Piccino di Atelier P, Stefano Trapani e Roberto Colosio.